Renzi ha rotto i patti. Renzi ha ancora una volta mancato di parola. Forza Italia riprende la sua libertà d'azione rispetto alle riforme ma soprattutto rispetto alla politica economica di questo governo che sta distruggendo il Paese. Le riforme sono un impegno che abbiamo assunto davanti agli italiani e lo porteremo fino in fondo. In questo lungo percorso abbiamo coinvolto tutte le forze politiche a partire dalle opposizioni. È un impegno che noi vogliamo portare avanti e siamo sicuri di avere i numeri e la determinazione per arrivare fino in fondo. Sono 30 anni che si mettono d'accordo su ogni cosa. Il patto del Nazareno è quel patto che ha abbassato le pene di reato di scambio politico mafioso. Questo è il patto. Vi suggerisco anche di non parlare. Forse si romperà qualcosa il patto del Nazareno quando aboliranno i vitalizi per i mafiosi. Questo è una proposta del Movimento 5 Stelle a 360 gradi, dal nord alla regione Sicilia. Buon pomeriggio al Transatlantico, buon pomeriggio da Strasburgo. Primo giorno della sessione plenaria del Parlamento europeo di febbraio. Abbiamo scelto di dedicare la nostra copertina al percorso sulle riforme perché domani ricomincia in Parlamento sia l'analisi della legge elettorale sia la lettura della riforma costituzionale. Dunque il supervenimento del bicamerismo perfetto e il titolo quinto. Ovviamente cominciamo da qui però a tutti quanti interessa e nel cuore la crisi ucraina fino a poco fa in diretta sulla News 24, la conferenza stampa di Angela Merkel e poi la tragedia dei migranti a Lampedusa. Dunque un'occasione per parlare ancora una volta dell'immigrazione e dei suoi drammi. Cominciamo a presentare i nostri ospiti. Lara Comi, dunque Forza Italia, gruppo qui del Partito Popolare Europeo per il Movimento 5 Stelle Legnazio Corrao, grazie anche a lei, per il nuovo centrodestra Unione di Centro perché insieme, diciamo così, con questo rassemblement hanno superato la soglia di sbarramento e dunque sono stati eletti. Lorenzo Cesa, grazie a lei, per il Partito Democratico e dunque l'alleanza dei socialisti e democratici europei Paolo De Castro. Allora, cominciamo però dalle riforme. Dunque Enrico Agostini ci racconta questa ripresa di dialogo, prima di tutto tra Berlusconi e Salvini c'è stata la segreteria della Lega, alla fine ha detto accordo, no, ma riprese di dialogo sì. E poi Enrico, questa, diciamo così, ripresa in cui lo abbiamo sentito dalla nostra copertina, le opinioni sono molto diverse. Ovviamente, diciamo così, lo sparteacqua è stata l'elezione del nuovo capo dello Stato. Raccontaci tu. Sì, insomma, il nuovo corso, soprattutto il nuovo menù che sarebbe stato consumato a cena ad Arcore ieri sera tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini è quella dell'opposizione dura a Matteo Renzi. Dunque è una riapertura di dialogo di Silvio Berlusconi che prova a rimettere insieme i cocci del centrodestra che cambia commensale perché evidentemente non incontra più Matteo Renzi ma adesso incontra Matteo Salvini. Questo è il nuovo corso sulla quale Matteo Salvini per il momento frena un po' nel senso che dice sì, con Berlusconi ci siamo visti, ma da qui a dire che l'accordo è a 360 gradi ce ne passa, però siamo molto felici che da questo momento Berlusconi dica che sarà l'opposizione dura a Matteo Renzi. Ascoltiamolo Salvini in questo passaggio che un pochino prende le distanze. Ci interessava capire se la rottura di questo accordo con Renzi che è durato troppi mesi e che ha portato Forza Italia a votare delle riforme imbarazzanti era una crisi passeggera o un qualcosa di più. Ci è stato assicurato che Forza Italia è e sarà stabilmente all'opposizione ricominciamo a parlare, però da qui a leggere entusiasticamente come vedevo nei siti negli scorsi minuti di un accordo a 360 gradi, no, abbiamo ricominciato a parlare. Soprattutto Donato in vista ci sono ovviamente le regionali, quello sarà il primo banco di prova e lì Salvini ha messo subito un paletto, ha detto mai col nuovo centrodestra che sta con Renzi, dunque questo è sicuramente uno step. E poi ci sarà quello appunto delle riforme che domani qui alla Camera prenderanno di nuovo il via, inizia a tempi peraltro strettissimi e molto battenti la riforma del Senato e del titolo quinto, domani si capirà subito quale sarà l'atteggiamento di Forza Italia che pare che appunto con la Lega Nord stia preparando tutta una serie di emendamenti, ostruzionismo e subemendamenti che daranno sicuramente la cifra se Silvio Berlusconi è davvero passato all'opposizione a 360 gradi a Matteo Renzi oppure no. Donato a te. Grazie Enrico Agostini. Allora cominciamo da lei, Comi, risposte brevi anche se l'argomento è delicato perché abbiamo tante cose di cui parlare, Salvini dice abbiamo ricominciato a parlare, però non è che c'è l'accordo a 360 gradi. Ovviamente immagino che vi siate ricominciati a parlare, anche perché ci sono le regionali, conviene parlarsi, no, però questa nuova posizione dura e pura annunciata dal Presidente Berlusconi, secondo lei quanto dura e quanto effettivamente dura? Mi scusi il gioco di parole. Guardi, da Lombarda le dico che non mi sono mai accorta che il dialogo fosse finito, parlo di Regione Lombardia, parlo della Regione Veneto, parlo di tante realtà dove c'è anche il nuovo centro-destra, di conseguenza quando si dice mai alleati col centro-destra allora bisogna rivalutare anche questo in Regione Lombardia, ciò che invece Salvini ha confermato ultimamente, quindi bisogna essere secondo me coerenti su questa linea. Sicuramente Forza Italia non insegue la Lega, questo è un ragionamento chiaro. Pare di capire nemmeno la Lega Forza Italia però. Giustamente, posso dirlo, ognuno deve avere una propria autonomia, un federalismo anche di partito. Quello che noi abbiamo detto è non siamo più così accondiscendenti nei confronti di Renzi, cioè se c'erano delle riforme che per noi erano un ni, a questo punto diventeranno un no. Premesso Berlusconi è stato anche molto chiaro, si è all'opposizione come si è sempre stati, ma se le riforme sono positive e sono anche di stampo di centro-destra come alcune si va avanti. De Castro, allora diciamo, lo spartiacco è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, ha sentito Rosato il Vicepresidente Vicario del gruppo dei suoi deputati lì in Italia, dice comunque, insomma no, le monedate ci sono, no. Da una parte credo sia positivo, in fondo si ritorna in una logica di maggioranza e opposizione, questo è un fatto positivo. Però mi auguro che quando si toccionerà a parlare di riforme si sia il più ampio a partecipazione nella costruzione delle regole, l'abbiamo detto tante volte, quindi io sono speranzoso che si riesca a continuare comunque un dialogo sulle riforme e che coinvolga tutti, non solo Forza Italia, ma anche la stessa Lega. In fondo stiamo scrivendo le regole che devono poi in qualche modo guidarci per il futuro, non stiamo parlando della normale dialettica di maggioranza e opposizione che riguarda le azioni quotidiane del governo. Non l'ha citata De Castro Corrao, ovviamente è stata la dimenticanza, nel paniere delle forze parlamentari che dovrebbero partecipare a riforme, perché ovviamente in più si fanno e meglio è. In più si fanno e meglio è. Ha sentito Di Battista usare parole durissime nei confronti del patto del Nazareno, non è la prima volta, l'atteggiamento, la comunicazione del Movimento 5 Stelle rispetto a quell'accordo è sempre stata molto netta, molto… È giusto, confermo comunque le parole di Battista, perché non sarebbe comunque pensabile in un sistema democratico che le riforme si fanno dentro il Nazareno, si dovrebbero fare in Parlamento. E infatti si fanno in Parlamento, perché poi alla fine la discussione è in Parlamento, lì come qui. Le dico, di questo pacchetto, ad esempio, la ridefinizione… parlo del titolo quinto perché è una cosa che magari è un po' più ostica, la legge elettorale se ne parla di più, però la riforma del titolo quinto ridefinisce i rapporti tra potere centrale ed enti locali. Non è una cosa che, diciamo così, non è un segno di modernità che vi interessa? Ma è chiaro, ma a noi interessa tutto quello che avviene all'interno del Parlamento, tutto quello che riguarda la vita democratica del Paese. Il problema è la forma che si utilizza nel portare avanti il processo democratico. Quello a cui noi ci opponiamo è un sistema nel quale due o tre persone si sentono, si mettono d'accordo, mandano via mediaticamente la politica e invece non funziona così. Si dovrebbe discutere in Parlamento di quali sono le riforme. Noi le nostre proposte le abbiamo sempre presentate, abbiamo trovato sempre una porta chiusa da parte del governo e da parte della maggioranza che comunque va avanti senza ascoltare gli altri perché a parole Renzi dice di coinvolgere tutti, però a fatti poi va avanti a decreti e a fiducia comunque. Non mi sembra che sia coinvolgendo così tanto le opposizioni. Il centro, diciamo così, che appoggia questa maggioranza, a volte anche con valutazioni critiche. Io ritorno sempre a quella battuta a sua era popolare perché mediaticamente è stata molto forte, insomma il 98% degli italiani non sa bene che cosa sia, di che cosa si tratti. Non è bene, sono molto più di CNCD che in un'area popolare. Però insomma… Un gruppo nato da 15 giorni. Sì, però voglio dire evidentemente il riferimento che fa Renzi nell'esempio provocatorio Cesa è, diciamo così, ha una certa tradizione, diciamo così, centrista… Ah, democristiana. Democristiana, eh. Va di moda. Non ne vergogno proprio assolutamente. No, 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 perché è età, non ce n'è da vergognare assolutamente. Per proposito di riforme, voglio dire questo, io che ho vissuto nella democrazia cristiana, ci abbiamo provato tante volte a fare le riforme che stiamo tentando di fare ora, mi ricordo De Mita, poi siamo passati alla Seconda Repubblica con D'Alema, ci hanno provato tutti le bicamerali, le famose bicamerali, ci siamo inventati tutto per fare le riforme, ora che le stiamo facendo, l'ospicio di un democristiano qual è? Facciamole insieme tutti, che stiamo cambiando proprio alla radice le modalità della vita istituzionale del nostro Paese, quindi se c'è una condivisione maggiore possibile, io penso che è da fare tutti insieme questo lavoro e portarlo a conclusione, magari c'è qualcuno che vuole modificare, ho letto, ma anche noi vogliamo apportare delle modifiche sulla riforma istituzionale, sul tema della formazione professionale da riaccentrare, sul tema del ruolo che deve avere il Senato e la Camera dei Deputati, che non ci può essere la confusione prevista come è scritto ora, o sul tema anche della regolamentazione delle partecipate, che è un tema che a noi sta a cuore, che dobbiamo mettere in Costituzione che quando c'è un privato che può fare un servizio non ci possiamo inventare la società, abbiamo anche noi tante cose da apportare, però è il momento di fare le riforme nel nostro Paese, che sono 20 anni che stiamo 20 anni di più, ci stiamo volando a farlo, ma cerchiamo di farle tutti insieme, anche i 5 Stelle, ecco così. Allora, io vorrei parlare adesso, prima di andare a toccare il nervo della crisi russa, però di quello che è successo a Lampedusa, non si offenderà Corrao se dico una cosa che lei ha affermato poco prima di entrare in onda, perché non è un giudizio solo suo, lei ha parlato di tragedia permanente, perché l'ennesimo disastro, 29 morti, 106 persone su questo traghetto della speranza. Allora, invertiamo, ricomincio a lei De Castro su questo, perché il tema dell'immigrazione l'abbiamo detto, l'ha detto anche il Presidente del Consiglio venendo qui, sia all'inizio che alla fine del semestre europeo, è stato un tema che ha toccato anche il Pontefice nel suo discorso al Parlamento europeo, ecco che cosa sta succedendo veramente in quell'emiciclo a 50 metri da qua? Intanto stiamo cercando come Parlamento europeo di spingere di più le istituzioni, la Commissione, perché poi alla fine la Commissione esecutiva è quella che ha il potere legislativo, quindi il nostro in questo campo può essere un ruolo importante nello spingere e andare in una direzione di condivisione delle responsabilità. Noi queste tragedie non le vorremmo più vedere, non le vorremmo più ovviamente assistere inermi a quello che accade e una condivisione europea significa anche un'assunzione di responsabilità, guardi, non soltanto di tipo economico-finanziale, perché dobbiamo tener conto che se guardiamo i numeri in termini generali, la quantità di immigrati che entrano in Germania e in Francia superano quelli che entrano in Italia, però da noi entrano in una via che è drammatica, ecco questo che ci deve colpire tutto e deve colpire le coscienze e giustamente il Santo Padre ce lo richiama. Quindi c'è un problema di condivisione di responsabilità, poi sulle regole è evidente, si guarderanno i flussi e anche dal punto di vista finanziario ognuno farà la sua parte. Noi abbiamo lamentato questa mancanza dell'Europa in una di quelle questioni che dovrebbe invece maggiormente toccarci, un tema drammatico che può, a mio avviso, trovare delle soluzioni europee e che può dare un pochino più di speranza, perché poi alla fine è questa la parola. Quali soluzioni, Correo? Le soluzioni vengono proprio da qui, vengono dall'Unione Europea. Noi in tema immigrazione abbiamo sempre avuto un approccio totalmente sbagliato, perché mentre l'Europa viaggiava andando a legiferare in tema commerciale, in tema economico, si è lasciato un ambito di importanza fondamentale come flussi migratori alla legislazione statale, che sono di formi, perché è chiaro che la legislazione italiana è distinta rispetto a quella spagnola o quella greca. Quello che si dovrebbe fare, e lo stiamo facendo con ritardo, è cercare di unificare e affrontare il tema in maniera congiunta. I flussi migratori vanno regolati assieme, le misure vanno decise insieme, ma questo non lo dobbiamo fare domani, l'avremmo già dovuto fare ieri. Quindi dice bene De Castro quando dice che la Commissione ha dovuto fare carico, però ci vorrebbe più volontà anche da parte dei singoli Stati membri, quindi attraverso il Consiglio nel portare avanti questo tipo di stanza, che evidentemente conviene a qualcuno e a qualcuno meno. Quello che noi verifichiamo è che oltre alla tragedia permanente di cui parlavo prima, stiamo assistendo ad una vera e propria industria dell'accoglienza, perché non lo sto inventando io, non lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle, ma quello che emerge dall'indagine di Mafia Capitale è soltanto una piccola goccia di un enorme mare di business, criminale che viene fatto intorno a questi viaggi della morte. Quindi bisogna intervenire immediatamente in questo senso. Come? Questo dimostra che la soluzione non è la chiusura delle frontiere, cioè nel momento in cui abbiamo un problema di immigrazione dobbiamo rappresentarci effettivamente come europei. Quello che non condivido e che si sta procedendo in questa dinamica, quindi parto da frontes mare nostrum, da tutti anche i vari nomi che possono essere creati è quello delle quote facoltative. Cioè bisogna definire delle quote ben precise, anche perché l'immigrazione che arriva in Italia, come è stato ricordato, è ben diversa dall'immigrazione che arriva in Francia e in Germania. Come forza lavoro sicuramente l'Italia ha disponibilità, diciamo non in questo periodo che è particolarmente critico, ma in passato, ha utilizzato sicuramente persone che provenivano dai paesi del Nord Africa, ma erano regolari. Quello che noi dobbiamo combattere è l'aspetto della clandestinità e chiudendo le frontiere non è sicuramente questa la soluzione. Abbiamo bisogno di aiuto. Cesa, il problema è la clandestinità o il problema è anche, diciamo così, la qualità e lo spirito dell'accoglienza? Guarda, io dico questo, sono 220 milioni nel mondo di persone che si muovono, questo è il dato, sto in Commissione Est e ne discutiamo spessissimo di questo argomento dell'immigrazione, no? Qui per quanto ci riguarda c'è un dovere di solidarietà da parte dell'Europa rispetto alle cose anche che diceva l'onorevole Comi, è assolutamente indispensabile, non può essere lasciata l'Italia che deve fronteggiare da sola in Mediterraneo, non stiamo parlando di un paese che ha una frontiera, Germania, che ne so, altri paesi che devono accogliere, no, noi stiamo parlando di un problema, che ci siamo caricati sulle nostre spalle, io devo dire, rispetto ad esempio a quello che diceva lei, che sono orgoglioso di essere italiano e di aver fatto l'operazione Mare Nostrum, che ha salvato migliaia e migliaia di vite umane nel nostro paese, ecco, questo è, occorre solidarietà rispetto alla povera gente che si trova in situazioni di difficoltà, pensiamo alla Libia, quello che sta accadendo in Libia che è drammatico, meno dei rapporti che ci fanno in Commissione esteri, quello che sta accadendo e ne parleremo domani dopo domani, in Iraq, in Siria, è chiaro che la gente e noi abbiamo il dovere di solidarietà, ma non solo noi italiani, questo è il problema e qui occorre che tra di noi ci sia una forte spinta rispetto alle istituzioni europee perché si assumono la responsabilità di fronteggiare un fenomeno come questo. Allora, il tema della crisi in Ucraina, abbiamo sentito le parole di Angela Merkel, ma anche quella del Presidente Obama, dunque in aspimento delle sanzioni, ulteriori avvertimenti e poi però se la cosa non funzionasse, l'uso di armi di difesa letali, insomma, sono parole molto pesanti. Allora, ascoltiamo su questo tema ciò che ha detto intanto l'alto rappresentante per la politica estera e difesa dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Non siamo ancora ad un accordo, non siamo ancora ad una soluzione, ma sicuramente è un primo passo positivo e importante, il che significa innanzitutto un cessato del fuoco perché la situazione sul terreno è drammatica, il numero di morti, di sfollati interni, di rifugiati sta crescendo e l'urgenza in questo momento è porre fine al conflitto ed è un percorso che speriamo possa portare a degli spiragli più consistenti. C'è anche la consapevolezza di evitare che il conflitto vada totalmente fuori controllo e ci avvolga in una spirale che porterebbe l'Europa, non soltanto l'Ucraina, su una strada molto pericolosa. E allora, questo ha detto Federica Mogherini, ma sentiamo anche le parole del nostro Ministro degli Esteri, Gentiloni, che focalizza anche la responsabilità della Russia. Affronta problemi delicatissimi, c'è di fatto una situazione di guerra sul terreno, quindi bisogna raggiungere un cessato del fuoco, definire l'entità del ritiro delle parti che oggi si stanno combattendo, ragionare su come controllare i confini, discutere dello status futuro delle regioni dell'est dell'Ucraina. Quindi è comprensibile che richieda diversi giorni e non è detto che si concluda positivamente. Quello che è chiaro è che le conclusioni positive dipendono dalla Russia. Allora, rapido giro, stavolta cominciamo con Cesa, però 30 secondi, perché poi vorrei parlare di un ultimo argomento. Allora, la cosa è in mano alla Russia, ma non solo, oppure dipende solo da Putin? No, in mano alla Russia sicuramente, perché è la Russia che ha invaso la Crimea, è la Russia che ha fatto tutta questa operazione in una parte dell'Ucraina, quindi dipende prevalentemente dalla Russia, ma la strada è quella che si sta tentando di fare. 5 gennaio c'è stata una riunione a Berlino, il 18 ancora una riunione, mercoledì sarà ancora un incontro tra i tedeschi, i francesi, gli ucraini e i russi, speriamo che si trovi in una soluzione sul piano diplomatico, perché altrimenti, come diceva Gentiloni, saranno veramente problemi seri, la Mogherini anzi, non solo per l'Ucraina e per la Russia, ma per tutta l'Europa. Comi? Quello che secondo me deve svilupparsi di più è un negoziato tra Mogherini e la Russia, cioè il fatto che si presenti la Merkel, Hollande da Putin, posso dire personalmente non mi piace, non è questa l'impressione di Europa che dobbiamo dare, cioè allora è sempre Francia e Germania che negoziano. No, deve essere Mogherini, sul quale noi abbiamo dimostrato sicuramente un appoggio, anche se pensavamo che la politica estera effettivamente non c'è a livello europeo e questa è una dimostrazione. Corrado. De Castro? L'Europa deve fare sentire di più la sua voce, questo non c'è dubbio, a volte anzi la voce, l'abbiamo visto con le primavere arabe, è stata una voce forse un po' stonata. In questo caso la speranza è davvero che mercoledì prossimo si possa fare un passo avanti, come diceva Lorenzo Cesa, non si riesce a capire per quale motivo non si riesca a trovare una via diplomatica. Continuiamo a fare sanzioni, la Russia continua a rispondere con l'embargo, io che mi occupo di problemi agricoli e alimentari, vi posso dire che l'embargo sta facendo più danni a noi di quanto noi ne stiamo facendo alla Russia, quindi comunque è un problema enorme, auguriamoci per tutti questi motivi che davvero mercoledì si faccia un passo avanti. Corrado. È una situazione che secondo me stiamo affrontando male, ci sono innanzitutto la prima chiave di lettura sbagliata e perché vanno a trattare la Merkel e l'Hollande, cosa rappresentano e chi rappresentano. Se c'è un'Unione Europea, se dopo Lisbona sono aumentati i poteri dell'altro rappresentante, dovrebbe essere questa sorta di ministro degli esteri e dell'Unione Europea ad andare a discutere con il governo russo di questa situazione delicata, delicatissima, esplosiva a Ucraina. E la seconda chiave di lettura è che noi stiamo facendo una politica che è controproducente, contro noi stessi, perché la Russia è un nostro vicino, noi siamo riusciti ad esercitare una grande forza pacificatrice tra gli Stati e l'Unione Europea nel corso di 70 anni di storia recente e dovremmo provare ad utilizzare la stessa forza diplomatica, la stessa forza pacificatrice anche nei confronti della Russia, cosa che non stiamo facendo, probabilmente facendo gli interessi di qualcun altro e noi gli interessi nostri. Questo è quello che non dobbiamo fare, fare gli interessi di qualcun altro. Allora io vorrei toccare un altro tema e il tema è quello delle suppletive in Francia, perché ha vinto un deputato del Partito Socialista al ballottaggio, però ha vinto di pochissimi i voti, di un pugno di voto sul canale del Fondo Nazionale della Le Pen. Allora, quando il Movimento 5 Stelle prese 9 milioni di voti alle elezioni politiche, qualcuno parlò di antipolitica, io mi vanto di averlo fatto mai. Nell'ambito europeo vi chiedo, quando c'è un successo così enorme, incrementato, di un partito così caratterizzato, di destra, anche con valori così netti, insomma, per usare un eufemismo, che vuol dire? La colpa di chi è? La colpa è dell'altra politica? Comincio a lei, Gorrava. Mi sembra chiaro, lasciando perdere il caso specifico francese, ma quello che sta succedendo un po' in tutta Europa è che si assiste al fallimento dei partiti centristi, che si sono allontanati dalle esigenze dei cittadini per stare vicini a quelle che non alle esigenze delle grandi corporation, perché di fatto è questo quello che è successo. Questo porta, in diversi contesti, quindi in diversi paesi, all'emergenza e a salire di realtà diverse. Quello che è successo in Grecia, quello che succederà in Spagna, quello che è successo in Italia con noi. Questo è un momento storico in cui le cose stanno incontrovertibilmente cambiando e secondo me si assisterà con maggiore frequenza ad una rinuncia da parte dei cittadini di quello che era lo schema tradizionale, perché attraverso la conoscenza, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, attraverso la globalizzazione si ha maggiore coscienza e quindi anche una richiesta di una politica diversa rispetto a quella che si ha avuto finora. Lei parli un po' di me, ma prego perché hai parlato un po' di più. I partiti centristi... Non lo so. Non glielo dico io. Non glielo dico io perché è l'abitudine. Sai che hai vinto in Francia come in altre parti, come all'Europea, in Italia. L'assenzionismo. L'assenzionismo. E chi è che non va a votare? Ma l'assenzionismo non è un premio alla politica però. Non è un premio alla politica, è un premio. E chi è che non va a votare? Sono prevalentemente i moderati. Quindi in Francia è capitato proprio questo che l'OMP che ora si è ridato nel Sarkozy, la leadership, non è riuscita a sfondare e c'è veramente una forte fetta di astensione che è un fatto negativo per la politica e che è stato il motivo per cui poi la Le Pen è andata a fare il ballottaggio con i socialisti. In altri paesi, i socialisti non esistono più in Grecia e probabilmente in Spagna succederà la stessa cosa. E allora, visto che abbiamo la possibilità di fare altri due interventi, c'è la Le Pen da una parte ovviamente come orientamenti valoriali, poi c'è Tsipras che però vince in Grecia e anche lui diciamo così certamente non nel segno di una politica moderata, vince nel segno della speranza, nella contestazione del rigore dell'Unione Europea con la parola chiave della crescita, però anche quello è un segno a sinistra della sinistra riformista. Come va interpretato De Castro? Noi dobbiamo riuscire a ricollegare l'Europa con i cittadini e altrimenti è evidente che la risposta non possono che essere questi risultati. Poi dopo vediamo che cosa farà Tsipras, perché in qualche modo quello che si succede in Spagna, a Podemus e in Spagna stanno guardando perché se Tsipras sarà un fallimento e la Grecia va in condizioni peggiori, questo sicuramente farà riflettere. Però la responsabilità è nostra, delle forze più europeiste, del PPE come dell'SND, se noi non siamo capaci di ricollegare l'Europa con i cittadini e dare un'immagine di un'Europa vicina ai cittadini, che risolve i problemi dei cittadini, non che li tartasse e basta. E' lì che nascono il front nazionale, siamo capaci di farlo, qualche cosa lo dobbiamo dire, qualche cosa si muove in questa Europa. A proposito di Podemus che lei ha citato, forse ce la facciamo un ultimissimo giro, prima facciamo parlare della raccoma però, noi l'avevamo invitato, è stato già nostro ospite Paolo Iglesias, non è venuto questa sessione plenaria, verrà la prossima speriamo, però insomma sono tanti i segnali, anche la Spagna, diciamo così, questa è una domanda di cambiamento, voi come pensate di evaderla? Sipras ha sparato a zero, poi è arrivato in Europa, i toni sono cambiati, è arrivato in Francia, i toni sono cambiati, è arrivato in Italia anche l'incontro correnze, i toni sono cambiati, perché si capisce che un conto è la campagna elettorale, dove si spara a zero su tutti, in particolar modo dal front nazionale a quello che può essere il movimento di Zipras, poi quando si governa si capisce che ci sono determinate regole, io posso dire che l'esperienza europea, faccio riferimento al Movimento 5 Stelle, perché ha un atteggiamento molto più costruttivo, responsabile, a mio giudizio, di quello che avviene in Italia, qui si ragiona per interesse della propria nazione, per interesse dell'Europa e si collabora insieme, il fatto che sia qui oggi anche un esponente del Movimento 5 Stelle, secondo me è il raggiungimento anche di una collaborazione che in Europa c'è e che forse dovrebbe avvenire anche in Italia. Non resisto con Rao, l'aria buona di Strasburgo, il freddo di Bruxelles che vi va... La concretezza, guardi. Vuol dire l'orecchio a De Castro, perché lui quando dice le forze europeiste... Gli le tiri in fretta che fra un minuto chiudiamo e poi dobbiamo farlo replicare. Le forze europeiste che sono il PPE e i socialdemocratici, allora io devo un attimino fare un appunto, perché cosa si intende per forza europeista? Io sono il più europeista di tutti probabilmente se si considera l'Europa come un'Europa di popoli e di cittadini, se per essere europeisti si intende fare gli interessi delle grandi multinazionali e delle grandi banche europee, allora quello per me non è essere europeista. Per quanto riguarda il funzionamento e l'atteggiamento più propositivo o più partecipativo che noi possiamo avere qua, qua il discorso è semplice, questo è un Parlamento completamente diverso rispetto a quello italiano, siamo 28 Paesi, siamo tantissime delegazioni, si discute sui temi e si cercano soluzioni fattive. Io credo che i nostri colleghi a Roma vorrebbero fare lo stesso, il problema è che si ritrovano le telecamere, sopra ogni cosa è la mediaticità assoluta che blocca un attimino quello che potrebbe essere la partecipazione sui singoli provvedimenti, che c'è perché non è che non si vuole partecipare. Quindi noi che cerchiamo di mediatizzarvi da un anno e mezzo sbagliamo, mi dica di no. No, 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 un sacco di cose. Io danno facendo un sacco di cose in questo momento. Era una battuta ovviamente, corravo. No, noi da subito abbiamo creduto che l'Europa, questo fosse veramente l'altro luogo, sempre più il luogo. De Castro a 10 secondi, Cesar non la posso far replicare? Cosa risponde a Corrao? Rispondo a Corrao che da una parte qui c'è effettivamente un modo di lavorare che porta ad una maggiore collaborazione dei gruppi, d'altra parte non c'è alcun dubbio che la reazione dei cittadini c'è, così come l'abbiamo visto nelle forze che vogliono far uscire dall'Euro o altre iniziative contro l'Europa, rispetto a noi che invece vogliamo più Europa, non meno Europa. Clara Comi, Forza Italia, Inizio Corrao, momento 5 stelle, per il numero di centro c'è Lorenzo Cesar e poi Paolo De Castro del Partito Democratico, la pubblicità poi Sabrina Bellomo per le notizie 19 e poi la seconda parte di Transatlantico qui da Strasburgo. A fra poco. Grazie.